Per il secondo anno consecutivo la pizza della Bracera ha ottenuto i tre spicchi nella guida del Gambero Rosso 2017, unica in Sicilia ad aver ottenuto un tale prestigioso riconoscimento per festeggiare una serata ufficiale, una festa, dove si degustano quattro pizze ideate proprio per l'occasione. Quali sono i criteri per cui si giudica una pizza meritevole dei tre spicchi di Gambero Rosso? I criteri sono la qualità delle farine, la qualità delle miscele, quindi le composizioni delle miscele stesse, la qualità degli impasti, l'utilizzo dei lieviti che possono essere dei lieviti madre o possono essere dei lieviti di birra, quindi degli starter rindotti e poi il risultato finale che è la cosa fondamentale. È stato difficile però ce l'hai fatta ad ottenere il primo riconoscimento ma come hai detto tu l'anno scorso l'importante è mantenerlo e tu ce l'hai fatta, come hai fatto? Abbiamo ricercato ancora degli ulteriori impasti, oggi per esempio quattro impasti nuovi che abbiamo già elaborato e sono pronti ad essere inseriti nel menù e che stasera faremo gustare. La pizza aiuta a restare in forma? Beh è un elemento che fa sempre bene ed è sempre un piacere mangiare. Poi venite al locale e le venite a provare. E poi buon appetito! Buon appetito a tutti!